Questa è tipo il quartier... Airford mi pare sia uno del quartier generale della Sass No enemy detected Quartier generale della Sass Si c'è una bandiera inglese Non mi ricordo se è il quartier generale Si 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 c'è anche lo stemma della Sass Ma quello lì è un tizio Dove? Mi dici dove? Nel bus Cos'è quella roba? Nel bus? Anche io ho la grafica bassissima Ah no sono dei pupazzi Sono delle sagome Quelle d'addestramento Esatto si Mi metto in mente quel video del tizio che arriva a... Ti ricordi tipo al furgoncino d'addestramento là e poi esplode tutto E' presente Ok sto entrando qui No è un'altra sagoma minchia che dovevo posire un amico Devo ancora vedere un enemy eh Qua... Mattia è pieno di C4 E' imbottito di C4 qui l'edificio C'è C4 ovunque Eh saranno lì dentro Vedi che ci sono le crocci gialle Sto cercando ma ti giuro Per ora vedo solo C4 a bestia Non ho visto nemmeno... Senti durlare Ho sparato una fucilata nella finestra e si sono messi anche a parlare Ho trovato uno Era un ambusher Provo a salire di un piano col drone Qui hanno fatto così... Ne scende uno di qua Ok aspetta torno... Preso Preso No ma... Cioè dovrei farcela... Occhio però perché si muovono in giro e questo qua stava scendendo la scala Eccone la... Preso Ce n'era uno che usciva da... Poi ce n'è un altro in giro... Un altro dalla scala Un piano di sotto... Arrivo Preso preso Un altro da lì Hai capito dove dico? Sopra la scala Occhio La scalettina lì? Sì Ok eccolo là Preso Ok E' stato tu? No Forse stava per tirare una granata Ho passato un caccia Ok Oh oh Da dove? Ah da lì in fuoco Granata 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 Non dove sono io Ah ho visto che c'era scritto throw back grenade Si può tirare indietro Erano in due L'hai preso tu l'altro? Tutti e due Sì Ah ok Allora qua c'è la scala che ti dicevo che porta su dove c'è pieno di C4 Qua c'è tipo un piano interrato anche Boh proviamo Come scendere? C'è sì Possiamo far saltare la porta La possiamo spaccare ammazzate Vediamo se con il corpo a corpo Sì Tira col calcio del suo giro Ho sentito voci Occhio che c'è una scala Una scala sulla sinistra Da destra Eh io sto guardando a sinistra Mi riesce a farlo pure Sì Mi sta sparando nel 1 No No non lo vedo Sì ora sì Vado a preso dal cuore un secondo Sto entrando Ok Sento voci a destra Eccolo là C'è del barbed wire qui E c'è un refill Dove possiamo Scavalco Con F Ah poi sì Puoi raccogliere munizioni E roba Fatto Oh Arrivato Ok A fare refill Vai Quasi Ricarico Ok Guarda dall'altra Rick reloading Cosa cazzo Non lo so ma ti hanno tirato qualcosa No C'era una mina Tipo una trappola esplosiva Madonna Sono Sono Non ho più vita Cristo santo Mi faccio il refill Mi da solo munizioni O mi da Prova C'è ho uno di scudo E non ho più vita No niente Solo le munizioni Porca vacca Comunque ho visto che quando Prima Mi hanno buttato a terra Tipo potevi rialzarmi credo È del filo spinato questo Sei indietro Senti che fa Bip 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 Da dove? Dal compensato L'ho colpito Eccolo lì No You were killed Da dove? Sono morto proprio È davanti Cacchio Non lo vedo sai Ma in realtà Ah è quello là Mi ha sparato dalla porticina Proprio Maledetto Non è morto nessuno Però No Però ho romputo il filo spinato E il berbe duai Come diavolo lo levo Prova fa che Il primo gli ho tirato un colpo corpo a corpo E l'ha accusato Tipo Prova Vedi Si rompe Si rompe ammazzate Che cazzo C'era la mina Sapevo Ci tirano delle bombe atomiche Da sinistra Madonna Ho due di armatura E non ho vita Ah rimane piegato Guarda Rimane storto Dalla porta Dalla porta Ah si Ma si potranno personalizzare E guarda Guarda come C'è C'è Le ha E sconza Si potranno Personalizzare tipo i birini Così Non lo so Forse per adesso che siamo reclute Basta Adesso che siamo Bitpatch Vediamo Adesso saliamo livello 1 In teoria Sì Ok Renault game Ce ne vogliono 500 però di Renault Quindi dovremmo fare 18 partite così Magari vincendo Guadagni più punti Probabile Sì Noi abbiamo sempre perso Eh Chiamo anche solo due Eh sì Vediamo Bruttiamo una terza E poi magari Proviamone una con altri Alleati umani Che magari Combiniamo qualcosa di più Tutto qua Ah di nuovo Air Force C'è Sta mappa Sembra un casino Trappole u Comunque Ok Provo a cambiare ulteriormente Prendo il German Con questa Con questo bel Laug Stavolta ci vado Grezzo pesante Fucile Ah No Ok vediamo Peggio Proviamo Vai Proviamo a cambiare Location Cioè Io prendo Tipo Training Course E tu Un'altra Ho preso parking Proviamo Forse Forse c'è solo un deploy E vince sempre Lost O lost Vale doppio Vediamo Vediamo Eliminate the terrorist Ciao 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 Eeeh Cos'hai? Cos'hai in mano? Ah Hai preso l'ignoranza russa? Democrazia russa Esatto Ci sta Ok prima mi pareva Allora che fossero Tipo piano di sotto Ok Drone No ho tirato la granata Spostati Porco Giuda Porca Ho sbagliato No ma me l'ha tirata Col 5 Tipo Non ho premuto G Merda Ok Direi che sanno Che siamo qui Madonna Che rumore Fa bellissimo Bellissimo Pensava alla raffiga Ah no Eccolo là Madonna Stai sparando con una vulca No Ti ho visto volare via Sono morto Si Ma era un kamikaze Attento Si E' un kamikaze E' stato un kamikaze Quello Quello là Mi è corso incontro Ed è esploso Ma va Non me l'ha aspettato Minimamente Quello lì Vedi E' un kamikaze Granata Granata Madonna Tu non hai idea Di quanto È imprecisa Questa cosa Eh immagino Era un fottuto Kamikaze Madonna Sono volato via Comunque Sì Hai fatto Quello era un altro kamikaze Allora forse perché Esplode quando muore Può darsi Può essere Ma hai visto che c'è una scaletta lì Ma come si è nascosto Minchia Quanti colpi Alle gambe Eh alle gambe Tipo Ti ho segato le camiglie C'è una scaletta qua Di sto rimorchio Proviamo E poi Proviamo a vedere se può salire Swag per swag Sì Sì Bene Con lo spazio È un uomo Sopra un container Con un mitrone Possiamo provare Ad andare all'indietro Ma 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 Cioè Ci sono rimasto Troppo di merda Incredibile Per scendere Ah Ok Fa Fa perfetto L'animazione è anche carina Tra l'altro Fa da solo Basta premere No Basta premere spazio Lui automaticamente Si gira su se stesso E Ok È salto giù Vedo vedo Ti sto osservando Questa C'è proprio La modalità spettatore Si chiama Support mode Proprio da Ti costo anche le mosche Dietro quella porta Cosa Cos'hai fatto Con che tasto Eh Ci sono andato sotto E ho premuto spazio E ti viene tipo Hold space To raffle Ma bisogna di doverlo avere Tipo Ah Ci sono tipo Dei punti di aggancio Sempre di C Quelli là Figo Ok Ah no Puoi usarlo ovunque E A testa in giù Se premi in C Mi pare puoi ribaltarti C'era sui Eh esatto C'era sui comandi Avevo visto Reverse Questa la puoi sfondare Sentite un Here we go Ma se Quello sembra compensato Secondo me Se spari si spazio Sì L'hai preso Guarda che figo Però Non è che come si è rotto Fai del terrorismo Tu Gli sfondi le finestre Minchia È duro Eh beh Ma non abbastanza duro Per Armature russi 6P41 Eh Cazzo Visto Flash Madonna Pure Tutto bianco Tutto bianco No io vedo normale Ma non mi ha mostrato L'effetto della flash Oh Quello aveva un AUG Ma ti vengono a prendere Sono stronzi È fantastico Puoi entrare adesso Da là mi sa Scavalcando la finestra Bea Parkour No Sagoma Lei è rotta Lei è rotta Lei è spaccata Guarda Hai diviso la sagoma Guarda Puoi raccogliere le armi Dei nemici Oh Del barbed wire Per leo Guardalo Grenade Bello Flash Guarda Avevano tirato una flash Niente E l'avevo visto Fare il movimento Sai Ma Credevo che tipo Non faccia sentire Sentito qualcosa Accadere di qua Magari era sotto Di te Ah ti rallenta solo Il barbed wire Ah non ti fa male Pare di no Deffilo Eh ti ricarica anche automaticamente l'arma Proviamo dai No ti rallenta solo Ok Ma che ho le mine Eh Per sapere come sono Ti è sentito un Ti 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 Però forse è un'attuazione radio Cioè si sentiva anche prima No Guardala lì Beh Del C4 Disabled Ah l'hai Eh gli ho sparato Mi ha detto Nitro Cell Disabled Ti è spacciato Ok Invece di Esploder È là è là Eh Visto Aglio che madre Che bel rumore che fa Io non ti arrivino da sopra Eh Ti sembra di sì Ma da qua è dove eri Ah C4 è un Famicazzo è quello Copierà? Ti fidiamo Prova No le armi pare non si possono raccogliere Bella Eh due minuti e 49 Otto E io sono Una pezza C'ha poi fa C'ha poi fa E i rumori sono proprio fatti bene Oh merda Dai sei Occhio hai visto che è il C4 di fianco Lo senti Là sulla parete Là sulla parete sinistra La vedi? No 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 Guardala Un po' più a destra Eccolo lì Ok sì l'ho visto Oddio Sentivo il beep Ma non M Vabbè ci dobbiamo buttare Dai nemici Niente Perché c'è anche il piano di sotto Potrebbe essere da giù C'è una bomba da qualche parte Sì sì Non si buga Ah è dietro una barriera È uno scudo Eccolo lì la bomba Ce l'hai a destra Oh L'ho vista in ritardo Minchia Vediamo il replay B B B Ah Boom Minchia Ah forse quelle sono le barriere Che avevano fatto vedere Nel trailer Che puoi mettere giù Che puoi mettere giù Sì Può essere Beh dai Sì Bello bello Ok Ehm Ah forse la renown È data dalle Dalle killed Perché me ne ha dato Quasi il doppio Nel 53 Ah io ne ho preso 17 Io ho 17 E allora sì Prima me ne ha dato i 29 Ma direi Potremmo provare a fare una Un'e-multiplayer Beh proviamo Ok Proviamo Sì Allora Ragazzi Per adesso Vi salutiamo qui E nel prossimo video Intanto sta partendo Un'altra anti In un'altra mappa Che non abbiamo visto Consulato Ok Ma comunque Torneremo con un altro video Per farvi vedere un po' Della modalità Competitiva Proveremo Tdm Bomb Non so nemmeno se si può scegliere Vedremo 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 Dal vostro Max Un saluto E Anche da Illu Ciao a tutti Alla prossima Alla prossima Alla prossima